Rolex Submariner Oro Giallo, l'eleganza del lusso senza tempo. Il Rolex Submariner Oro Giallo rappresenta l'incarnazione perfetta dell'essenza dell'orologeria svizzera di lusso. Una delle prime caratteristiche che colpiscono nel Submariner Oro Giallo è l'uso dell'oro giallo, un materiale che rappresenta il massimo lusso. L'oro giallo è rinomato per il suo colore caldo e scintillante, che conferisce all'orologio un aspetto elegante e attemporale. Questo materiale prezioso è utilizzato sia per la cassa che per il cinturino, donando al Submariner Oro Giallo una lucentezza straordinaria e una bellezza senza tempo. Questo orologio incarna la fusione perfetta tra il patrimonio artigianale di Rolex e il prestigio dell'oro giallo svizzero. Oltre all'oro giallo, un'altra caratteristica distintiva del Submariner Oro Giallo è la lunetta girevole unidirezionale. Disponibile in blu o nero, la lunetta svolge una funzione pratica che va oltre il suo aspetto accattivante. Grazie a questa lunetta, è possibile misurare con precisione il tempo trascorso da un punto all'altro, una funzionalità fondamentale per chi pratica immersioni subacquee. La combinazione di estetica e utilità è una delle ragioni per cui il Submariner Oro Giallo è così apprezzato sia da appassionati di orologi che da professionisti delle immersioni. Il Submariner Oro Giallo è molto più di un semplice accessorio di moda di lusso. È stato progettato per affrontare le sfide delle immersioni subacquee ad alta profondità e delle attività quotidiane. La sua resistenza all'acqua fino a 300 metri è una testimonianza della dedizione all'artigianalità e all'innovazione che caratterizza Rolex. È un'icona nell'industria dell'orologeria, un segno di raffinatezza, potenza e successo. Il Submariner Oro Giallo rappresenta un investimento nel bello, nel prestigioso e nell'intramontabile. È un simbolo di eleganza senza tempo che continuerà a catturare l'immaginazione di chi apprezza il lusso e il prestigio.